Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City, in apertura la cronaca scacco al nuovo clan, quarto sistema di torre annunziata sin dalle prime luci dell'alba in azione polizia e carabinieri per dare esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 12 persone. Ancora cronaca con il sequestro della Guardia di Finanza all'aeroporto di Capodichino a Napoli di oltre mille medicinali non a norma. Torniamo a Torre del Greco con la politica discussa questa mattina in Consiglio Comunale, l'interrogazione presentata dal Movimento 5 Stelle sui disservizi legati alla raccolta rifiuti, in particolare sui disagi per i trasbordi notturni nell'area del parcheggio La Salle. In primo piano ancora l'emergenza sanitaria, il governatore De Luca fa pressing sul governo per chiedere un piano straordinario per il rispetto delle ordinanze, in particolare per il provvedimento firmato ieri che prevede l'obbligo dell'uso della mascherina all'esterno. Facciamo il punto anche sulla situazione Covid nel mondo, i casi positivi di coronavirus superano i 32 milioni. Poi la riapertura delle scuole il prossimo primo ottobre, questa mattina abbiamo ascoltato la dirigente dell'Istituto di Torre del Greco, Mazzacola Marino, Deborah Minghelli. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. E' in corso dalle prime ore di oggi un'operazione condotta dai carabinieri e dagli agenti del commissariato del gruppo di Torre Annunziata, che stanno dando esecuzione a più ordinanze di custodia cautelare emesse dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale procura della Repubblica, direzione distrettuale antimafia, nei confronti di 12 persone gravemente iniziate di associazioni di tipo mafioso, estorsione, danneggiamento, porto e detenzione di materiale esplodente, tutti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di affermare la supremazia di un nuovo clan a Torre Annunziata, denominato Quarto Sistema. Gli inquirenti stanno cercando di stroncare sul nascere e l'emergere di un nuovo clan, ed evitare quindi il diffondersi della criminalità organizzata nella zona, oltre a contrastare gli altri fenomeni malavitosi già esistenti sul territorio. Tra i rischi, infatti, c'è quello che l'emergere di un nuovo clan possa innescare una nuova guerra di Camorra. I funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, unitamente a Militari della Guardia di Finanza, in servizio presso l'aeroporto di Capodichino, hanno sequestrato 1033 confezioni di medicinali e farmaci, privi di ogni certificazione e documentazione richieste dalla normativa comunitaria e nazionale, rinvenute durante un'operazione di sdoganamento e controllo dei bagagli individuali. Il viaggiatore, giunto in Italia dal Ghana per eludere i controlli dei funzionari doganali e delle fiamme gialle, aveva deciso, una volta giunto a destinazione, di non prelevare i bagagli dai nastri trasportatori della sala arrivi dell'aeroporto, dichiarandoli immediatamente come smarriti. Le valigie erano così rimaste custodite presso l'ufficio dell'aerostazione, in attesa che il proprietario tornasse a ritirarli. Nonostante l'ingegnoso metodo escogitato, il passeggero non è comunque riuscito a sfuggire ai controlli. L'uomo, un cittadino di nazionalità ganese, residente nella provincia di Caserta, è stato denunciato e ora rischia un'ammenda fino ad un massimo di 100.000 euro e l'arresto fino ad un anno. I medicinali sequestrati, quasi 7.500 tra pillole, compresse e spray di varia natura, avrebbero potuto fruttare cospicui guadagni se immessi sul mercato, con altissimi rischi per la salute dei potenziali acquirenti. Trasbordi rumorosi durante la notte nel parcheggio La Salle a Torre del Greco. Questa mattina alle telecamere di TV City, i consiglieri Vincenzo Salerno e Santa Borriello del Movimento 5 Stelle hanno denunciato gli episodi che si ripetono d'agosto, presentando stamattina un'istanza in consiglio comunale. La raccorta firme che è nata in maniera spontanea da parte dei cittadini che da quando quel sito è stato individuato come idoneo alle pratiche di trasbordo ci siamo fatti portavoce delle loro problematiche, della loro istanza. Ho presentato in prima persona a nome loro un esposto alle forze dell'ordine. La questione è abbastanza semplice per quanto devastante per quel quartiere. Le pratiche di trasbordo, oltre a rovinare la solubilità dell'aria, proseguono soprattutto durante tutta la giornata, in particolare di notte, creando dei disturbi anche sociali. In maniera rudimentale gli abitanti della zona hanno ad esempio rilevato i decibel percepiti durante gli orari di piena notte. Parliamo di 80-78 decibel. Basti pensare che il passaggio di un treno si registri con 90 decibel. E quindi, oltre ad essere portatori di questa istanza, con la collega Borrillo Santa abbiamo presentato quest'oggi in Consiglio Comunale un'interrogazione per comprendere due cose importanti. In primis, come sia possibile individuare quell'area come idonea al trasbordo dal momento che il capitolato speciale d'appalto all'articolo 34 lo permette solo in zone periferiche e con bassa densità abitativa. E' abbastanza palese per chi conosce la nostra città che non può per niente rispondere a queste caratteristiche. Ma soprattutto come sia possibile che il tutto avvenga di notte dal momento che la raccolta rifiuti è dato sapere che inizia alle 4.20 del mattino. Pertanto è inimmaginabile concepire che questo avvenga prima di quell'ora in piena notte. La risposta che abbiamo ricevuto stamattina è abbastanza grottesca perché abbiamo saputo dalla dirigenza che allora risulta che solo una notte, il 31 luglio, queste pratiche sono avvenute di notte e che quindi tutti i video, tutte le lamentele che hanno portato addirittura le persone a scendere e a raccogliere firme, ad andare dai carabinieri a far presente del disagio, probabilmente è una visione. è una visione e quindi due sono le cose. O è delirio comunale la risposta che abbiamo ricevuto stamattina o siamo tutti vittimi di una visione di massa. Qual è la sua azione adesso dopo questa risposta? Parte che andremo a fondo sulla risposta per comprendere come sia possibile avere appunto un relato che è totalmente in contrasto con quella che è la realtà dei fatti. Ma per dare anche un pizzico di speranza agli abitanti della zona possiamo benissimo anticipare che in condivisione con anche rappresentanti della maggioranza si sta presentando, anzi si è presentato oggi e notizie dell'ultima ora, l'abbiamo appena protocollato, una richiesta di ordine del giorno di partecipare al bando sport e periferie che scade il 30 ottobre che permette attraverso i fondi ministeriali dello sport e delle politiche giovanili di recuperare zone periferiche e degradate e di aprire allo sport. Abbiamo individuato proprio quell'area dove ora fanno il trasbordo così come altre aree, ad esempio la villa comunale, tanto salvo d'acquisto quanto Ciaravolo dove immaginiamo ad esempio una pista di pattinaggio perenne, ma soprattutto stiamo cercando di partecipare a questo bando e di recuperare delle aree urbane non pienamente sfruttate o in situazioni di degrado e riconvertirle ad aree di sport. Quindi oltre ad andare a fondo su quello che è l'aspetto amministrativo della risposta data dalla dirigenza, siamo subito partiti, ripeto, in condivisione con altre forze politiche nel cercare di riconvertire quell'area da un'area rifiuti a un'area di sport. Subito un piano straordinario per il rispetto delle ordinanze. Pugno duro del governatore della campagna Vincenzo De Luca che scrive al ministro dell'interno Luciano Lamorgese dopo il provvedimento firmato ieri, che prevede l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto su tutto il territorio regionale fino al 4 ottobre. Sollecitiamo il ministro, afferma De Luca, a comunicare il piano in quanto, come più volte segnalato, ogni misura sarà vana se non sarà assicurato un capillare controllo sul territorio in ordine all'osservanza delle prescrizioni volte a contenimento dei contagi. Si rinnova, pertanto, la richiesta di un impegno straordinario delle forze dell'ordine in campo e di un incremento numerico delle stesse, indispensabile all'efficacia delle attività di controllo inerenti all'emergenza. In relazione all'avvio dell'anno scolastico, il Presidente ha inoltre di nuovo segnalato al Governo, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio e al Ministro per l'Istruzione, la necessità di approvare un piano per evitare spostamenti interregionali degli insegnanti e per sopperire alla mancanza di docenti di sostegno. Si insiste, sottolinea il Governatore, nella richiesta di aduzione di ogni atto necessario di implementare le unità di sostegno da destinare alle scuole della Campania, anche in deroga al regime ordinario, per garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. E si segnala la pressante esigenza, nel contesto epidemiologico che si regista sul territorio regionale a livello nazionale, di evitare la mobilità interregionale del corpo docente, per i rischi di diffusione del contagio ad essa connessa. I casi positivi da coronavirus nel mondo hanno superato i 32 milioni. Le vittime sono più di 987 mila. I scienziati statunitensi ritengono che il virus stia mutando, diventando più contagioso. Dati preoccupanti registrati anche dall'Unione Europea, che avverte «Pandemia peggiore adesso rispetto al picco di marzo». Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato sui social un videotributo che racconta la storia dell'esperienza italiana. L'Italia è stato il primo paese occidentale ad essere stato pesantemente colpito dal Covid-19. Il governo e la comunità, a tutti i livelli, hanno reagito con forza e hanno ribaltato la traiettoria dell'epidemia con una serie di misure basate sulla scienza, ha affermato l'OMS. Bar e ristoranti chiusi a partire da lunedì in Francia, l'ha affermato ieri sera il ministro francese della Sanità, Olivier Vérin, che si è rivolta alla popolazione con un appello per limitare le interazioni sociali. Dobbiamo proteggere i nostri ospedali. Dobbiamo proteggere i nostri servizi di rianimazione. Dobbiamo proteggere i francesi. Innovazione e progresso in Finlandia. A Helsinki nato un nuovo programma per scoprire in pochi secondi la positività al virus. Si tratta di cani che sono in grado di rilevare la presenza del coronavirus in 10 secondi. I primi test all'aeroporto della capitale finlandese. È molto promettente. Se funziona, potrebbe rivelarsi un buon metodo di screening in altri luoghi come ospedali, case di cura e in occasione di eventi sportivi e culturali, ha affermato una ricercatrice del programma. Infine, in India si contano ormai quasi 6 milioni di contagi e più di 90 mila vittime. Il gigante asiatico, con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone, è il secondo paese più colpito dalla pandemia dopo gli Stati Uniti. Tempo di ricominciare. È sempre più vicino l'inizio del nuovo anno scolastico. Giovedì 1 ottobre 2020 a suonare saranno anche le campanelle delle scuole di Tori del Greco. Parole rassicuranti quelle della dirigente Deborah Minghelli dell'Istituto Mazza Collamarino che questa mattina ai microfoni di TV City ha illustrato le misure di sicurezza adottate per fronteggiare l'emergenza Covid-19 nelle scuole, invitando le famiglie alla massima collaborazione. Si avvicina la riapertura delle scuole. Bambini, ragazzi, docenti e dirigenti torneranno nelle aule. Come si sta preparando la scuola Giovanni Mazza? Innanzitutto molti di noi non sono mai andati via dalla scuola perché per prepararla all'apertura il lavoro è stato complicato e molto faticoso. Il personale amministrativo, i collaboratori scolastici si sono scorciati le maniche e ci hanno dato la possibilità. Stiamo allestendo gli spazi utilizzando quello che avevamo a disposizione, nel senso che accoglieremo i ragazzi ancora con i nostri banchi, le nostre sedie perché non sono arrivati ancora i banchi monoposto. Nonostante questo, sfruttando tutti gli angoli della scuola, siamo riusciti a trovare una collocazione per tutti. Anche se abbiamo dovuto articolare diversamente il funzionamento. La scuola secondaria lavorerà con i doppi turni, in aule molto capienti ma di numero esiguo per accoglierli tutti contemporaneamente. Nella scuola primaria ci sarà una rotazione che coinvolgerà soltanto i bambini delle quarte e delle quinte. La scuola dell'infanzia la accoglieremo per intero ma al momento esclusivamente in orario antimeridiano. Questa è l'aula, la presidenza in origine insomma. Adesso però questa stanza verrà sfruttata per ospitare dei bambini. Quindi c'è stato questo cambiamento. Ho ritenuto opportuno destinarla ai bambini, ai piccoli della scuola dell'infanzia e mi sono ritagliata un angolino da un'altra parte. starò in segreteria, starò un po' al plesso con la Marino. L'importante era fare spazio a quanti più bambini possibile perché le famiglie del territorio hanno bisogno di un ritorno alla normalità e la scuola doveva dare un proprio contributo anche in questo senso e quindi va bene così. Come vi state organizzando con le apprezzature, gli strumenti che negli ultimi mesi ci hanno accompagnato? Mascherine, guanti, gel? Il commissariato straordinario è molto attivo nella consegna di mascherine. Solo questa mattina ne sono arrivate 12.000. Quindi noi le stiamo ogni volta impacchettando per fornirle agli alunni che tutti i giorni la riceveranno a scuola. Alunni e ovviamente il personale. Arriva con una certa periodicità anche il materiale disinfettante. Noi comunque ci siamo organizzati con un piano B nel senso che ci siamo procurati anche noi detergenti, sanificanti. Abbiamo acquistato macchinari per la sanificazione degli ambienti. È tutto pronto. Si tratta soltanto di vedere il riscontro della prova dei fatti, insomma che cosa porterà nelle nostre scuole. Quanto è difficile secondo lei gestire bambini di ogni età? Allora i bambini hanno risorse che noi adulti non riusciamo a immaginare. I bambini non avvertono il fastidio della mascherina, i bambini sono consapevoli della necessità di sanificare le mani. Forse hanno più difficoltà a stare fermi e a mantenere le distanze. Questo un pochino ci preoccupa. Ci preoccupa non avere ancora avuto indicazioni precise sulle procedure da seguire. Qualora a scuola verificassimo la presenza di un bambino che manifesta sintomi. Non perché non sappiamo di doverli collocare in una sala che io non chiamo stanza Covid. Io preferisco chiamarla sala d'attesa. È il luogo dove aspetteranno al sicuro loro e i loro compagni, i genitori che arrivano. Abbiamo chiesto un incontro all'ASL per definire un protocollo che ci consenta una comunicazione più diretta ed immediata con l'ASL per ottenere il tampone per il personale o per il bambino che dovesse manifestare dei sintomi. O anche per ottenere delle indicazioni per l'individuazione degli alunni fragili. È chiaro che in questo momento di super lavoro, anche per l'ASL, non siamo ancora riusciti ad avere questo momento di incontro. Le famiglie sono preoccupate? Le famiglie sono preoccupate, però sono anche molto consapevoli del fatto che si ha il tempo di rientrare a scuola. Io colgo l'occasione per chiedere il supporto, la collaborazione delle famiglie, perché solo se lavoreremo tutti quanti insieme, rispettando le regole ulteriori che ci siamo dovuti dare, per esempio, abbiamo predisposto nel cortile degli spazi per l'accoglienza degli alunni, in modo che stiano distanziati, sappiano dove posizionarsi. Ma è opportuno, ripeto per fare un esempio, che i genitori lasciano presto il cortile, onde evitare assembramenti. Confido nell'attenzione dei genitori e delle famiglie del territorio. Sono sicura che con il loro aiuto riusciremo a mettere in acqua questa barca, diciamo così. Un augurio sincero e di serenità a tutti gli alunni di tutte le scuole cittadine, non solo di questa, perché sappiamo che è stata dura per tutti, lo sarà ancora probabilmente e speriamo che quest'anno passi in fretta.